Svelata a Rüsselsheim dal nuovo CEO Uwe Hogeshurtz, al suo primo giorno in Opel, la nuova generazione di Astra. Fortunatissima compatta da oltre 15 milioni di unità vendute dal lancio, la sesta generazione di Astra si presenta come il nuovo manifesto stilistico del marchio, figlia della filosofia bold and pure, che ha eliminato tutti gli elementi superflui dal design, sostituendoli con superfici nette e tese per un dinamismo senza precedenti, con l'immancabile Opel Visor e fari anteriori Intellilux LED a 168 elementi. All'interno, lo stacco rispetto alle precedenti generazioni è ancora più netto grazie a un'abitabilità migliorata con sedili anteriori certificati AGR e a una nuova interfaccia uomo-macchina che permette un'interazione da smartphone attraverso gli schermi touch da 10 pollici del Pure Panel. Disponibile al lancio con motorizzazioni termiche o ibride plug-in da 110 a 225 cavalli e dal 2023 anche in versione elettrica a batteria. Nuova Opel Astra arriverà a ottobre con un prezzo di listino a partire da 24.500 euro. Opel presenta Nuovo Grandland, SUV top di gamma che definisce nuovi standard nel suo settore di mercato grazie a un design audace, un posto di guida 100% digitale e una dotazione tecnologica veramente all'avanguardia. Elegante ma anche sportivo, nel segno della filosofia bold and pure, il design di Nuovo Opel Grandland parte dall'Opel Visor, il volto del marchio, incastonato tra i nuovi fari Intellilux LED Pixel con 168 elementi LED. Sotto al cofano, motorizzazioni di ultima generazione, tra cui due versioni ibride plug-in con potenze da 225 a 300 cavalli, con un'autonomia in puro elettrico di 65 chilometri nel ciclo VLTP. Con Nuovo Opel Grandland debutte inoltre per la prima volta su un'auto del Blitz il sistema Night Vision, in grado di rilevare pedoni e animali al buio fino a 100 metri di distanza. Nuovo Opel Grandland è già ordinabile in Italia a partire da 29.350 euro. Si rinnova la partnership tra Opel e X-Factor anche per l'edizione 2021 del talent show in onda su Sky & Now. Tante le novità a partire dall'abolizione della suddivisione in categorie che lancia un messaggio contro le etichette e le definizioni, celebrato da uno spot prodotto dal branded Entertainment Department di Freemantle, in cui Opel si fa portavoce di una mentalità aperta e inclusiva che va oltre le etichette per riconoscere e condividere le diversità. Protagonista dello spot, Opel Mocca si fa veicolo delle ambizioni del brand, accompagna i protagonisti nell'espressione delle loro personalità e posiziona Opel come marchio inclusivo. Diversity Conscious, attento e vicino alle persone nel segno dell'accessibilità. di Fondazione di Freemantle, in cui Opel Mocca si fa veicolo delle persone nel